Buongiorno a tutti i lettori di RIVMAG, siamo sulla spiaggia di Dianno Marina per il Wind Festival 2017, sesta edizione di questa Kermess sportiva, siamo allo stand AL360, qui con noi Federico Cominardi, responsabile di questo stand qui presso il Wind Festival di Dianno Marina, che ci farà una presentazione dei prodotti esposti. Ciao a tutti, ancora una volta ci troviamo qui a Wind Festival 2017 e adesso vi presento un po' quelle che sono le novità di AL360 nel 2017. Questa è la nostra maggiore novità, è un adattatore RDM che montiamo su tutti i nostri prodotti, BOMA che vanno dai 140 fino al 160, 170 e praticamente l'RDM viene fornito con una vite, una vite di sicurezza, in modo tale che invece che i soliti adattatori RDM che tendevano a cadere o a lasciarsi andare, con questa vite di sicurezza qua si può semplicemente fissare al corpo della maniglia, che dopo vedremo, e una volta che è fissato sopra, quando si vuole usare un albero che invece non sia RDM, basta togliere la vite e avete di nuovo il vostro BOMA con la vostra maniglia, come nuovo. Poi inoltre abbiamo iniziato anche, come si può vedere, una prova, ci siamo messi in gioco, ci stiamo mettendo in gioco anche nell'ambito dell'abbigliamento, siamo partiti con queste magliette per il 2018 e verso il 2019 vogliamo proprio estendere il nostro logo anche nel mondo dell'abbigliamento, quindi non alimentarci la t-shirt ma anche andare sul mondo dei calzoncini e così. Poi i BOMA sono i nostri, li conoscete, Carbonio, RTE, l'evoluzione dello slalom, insomma i prodotti sono quelli, sempre al top e almeno al dire ai nostri clienti anche qua. Va bene, noi ringraziamo Federico che è sempre conciso ma efficace nelle sue presentazioni, per quelli che sono ancora qui sulla spiaggia di Anomarina, lo stand è qui che vi aspetta per i più curiosi, ovviamente ci sono i canali standard web e Facebook per coloro che volessero conoscere maggiori dettagli sui prodotti L360, Federico grazie ancora, grazie ai lettori, continuate a seguirci per i prossimi episodi e buon win festival a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!